Buonasera, mi chiamo Paola Baraldi, sono un'imprenditrice e una project manager. Ho deciso di affidarmi le competenze di Armando Femiano per lo sviluppo di un sito internet di una società che aveva poca visibilità online. Ovviamente dopo una meticolosa ricerca di marketing, non solo Armando è riuscito a dare più visibilità, ma soprattutto nell'arco di poco tempo si sono triplicate le utenze e grazie a un format suggerito da lui siamo riusciti anche a trovare un sistema per fidelizzare il cliente. Il riscontro è stato immediato e il lavoro è stato svolto con professionalità e decisamente in una tempistica ridottissima, quindi molto competente e noi molto felici del risultato. A seguito di questo abbiamo deciso di affrontare con lui un nuovo progetto, una nuova sfida di una start-up. Ovviamente ci affideremo di nuovo ad Armando. Grazie